Abbiamo la negazione accesa che lo aspetta Ehi, c'è un blocchi di Terminiamo il turno Poi Boom! Mete! E' una vittoria per il mazzo volanti Buonasera nemici miei, sono proprio io Sono Suka Mikatsu con il vostro sensei altamente scarso E siamo oggi Un nuovo episodio di Raw Il terzo episodio E ho ricevuto tanti commenti positivi Grazie, grazie, grazissimo Sono molto apprezzati E' formato E sta piacendo Quindi continuerò a fare un po' di questi video Perché comunque Richiedono Meno sbattimento degli altri Gli altri comunque ci saranno ancora Però questo mi dà modo di portare più video Più mazzi sul canale Quindi E finalmente infatti possiamo portare il mazzo uccelloni Ma se non sapete cos'è Raw E vi siete Questo è il primo video della serie che vedete Innanzitutto potete recuperarvi i video scorsi sul canale Ma poi Raw è un formato estremamente violento Cinico E cattivo E' un tritacarne Valutiamo i mazzi Raw è un tritacarne che consiste in giocare in ladder ranked Best of one In quattro partite Quattro partite che ci daranno se il mazzo è immondizia o una bomba E lo valutiamo in base alle sconfitte Con quattro sconfitte il mazzo è immondizia che non avreste mai dovuto pensare di fare Con tre sconfitte il mazzo potrebbe migliorare ma è comunque imbarazzante Un mazzo imbarazzante che probabilmente è da cistinare anch'esso Ma almeno ci prova a non essere immondizia Con due sconfitte invece il mazzo è mediocre Con una sconfitta è buono Un buon mazzo E con zero sconfitte è una delle due O una bomba Oppure abbiamo un culo della madonna Quindi ora che abbiamo capito cos'è Raw Vi spiego in breve il mazzo Questo è un mazzo che ho copiato da Famicor Un canale giapponese che seguo Che porta continuamente video Un piccolo canale Mi piace perchè i video sono veloci Anche se è giapponese si capisce più o meno E poi è un amico che segue il canale Quindi Solo che Non avevo ad esempio Tre coppie di Angelo della Grazia Che è una carta mitica E cari miei Io vi voglio bene Cerco di portarvi i mazzi sul canale Però Non butto via due mitiche per l'Angelo della Grazia Sinceramente con tutto rispetto Poi cos'è che giocava di altro? Comunque il mazzo era più o meno simile Cambiava solo che Giocava l'Angelo della Grazia In più coppie Che è una carta simpatica Ma non è per nulla eccezionale Comunque Questo è un mazzo uccelloni Sono tutte creature volanti Volanti E prima che bannassero Teferi Ne avevo fatto una versione mid range E avevo preparato anche un video Che aveva anche Teferi E non era malvagia Purtroppo Teferi è stato bannato E ho dovuto buttare quel video Ma pazienza Comunque vi spiego brevemente il mazzo Sono tutte creature volanti Che abilitano la negazione eccelsa Che è un counter eccezionale Se si gioca con dei volanti Costa due mana Uno in colore e uno blu Dice Neutralizza la magia del balsaglio A meno che il suo controllore Non paghi un mana in colore Quindi Si può utilizzare anche senza i volanti Ma bisogna fare attenzione Che il nostro avversario sia tappato E non abbia mana per pagare il costo Se invece controlli una creatura Con volare Neutralizza con la magia A meno che il suo controllore Non paghi invece 4 Quindi 4 mana Cominciano ad essere tanti Per non counterare Quindi Questa è Abilitata da ad esempio Marinaio Spettrale O i nostri volanti a basso costo Diventa una counter eccezionale Per solo i 2 mana Poi giochiamo lo scrutatore delle sfere Che è una creatura Un volante simpatico Costa uno bianco Uno blu Volare 2-2 Le magie di creature con volare Che lanci Costano uno e meno Per essere lanciate Ogni qual volta Un'altra creatura con volare Entra sul campo di batteria Sotto il tuo controllo Lo scrutatore delle sfere Prende più uno Più uno Fino a fine del turno Quindi Ci abbassa il costo Di tutti i volanti In più Ogni volante che entra Lo pompa Buona Poi ci abbiamo Il sovrano degli aerofelini Che costa uguale A volare E prende più uno Più uno Per ogni altra creatura Con volare che controlla Quindi Diventerà parecchio grosso In più Per 4 mana Possiamo creare Una pedina Creatura Uccello felino Uno 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 Bianca Con volare Ed è lì Lo vedete nella pedina L'uccello felino Poi giochiamo Due hard counter Il vetro di Dovin Che dice Questa magia Non può essere neutralizzata Neutralizza la magia Non cattura avversario Utile contro Hugin E Altre bombe del genere Planeswalker E E cose che Per cui Negazione eccelsa Non sarebbe Abbastanza buona Poi giochiamo Il piru piru Che abbiamo imparato A odiare tutti È un 3-1 Con un lampo volare Che può bloccare Solo creature con volare Farabutto Spiritello Ma anche Un lato avventura Piccolo furto Istantaneo Fai tornare Un permanente Un terrabversario Controllato Un avversario In mano Al suo proprietario È la nostra principale Rimozione E poi abbiamo Il lord L'aquila Empire A tre mana Uno in colore Uno bianco Uno blu Volare Le altre creature Che controlli Prendono Più uno Più uno È un 2-3 Quindi Pompa Tutte le nostre creature Volanti Poi abbiamo Un'altra animazione Che è Disgregare Costa Due mana Fai tornare Una magia Una creatura Barsario In mano Al suo proprietario Quindi La possiamo usare Anche nello stack Come counter E rimbalzare La magia Mentre la sta Castando Oppure In alternativa Rimbalziamo Una creatura Purtroppo Il blu Ha a rimozione Un po' Delle balle Ma ci dobbiamo Convivere E poi giochiamo Tricks La tempesta Improvvisa Questa è l'ultima chance Per questa carta In questo standard 5 mana Trin colore Doppio blu 4-5 Lampo volare Gigante elementale Le magie che lanci Con costo di mana Convertito Pari superiore A 5 Costano Uno in meno Per essere lanciate Non possono essere neutralizzate Quindi ci abbassa Il costo di tutti Gli altri drop A 5 E dei drop A 6 Come la pescatrice Di sogni Che ha Volare legami vitale Ogni qual volta Peschi una carta La pescatrice Prende più uno Più zero Fino alla fine del turno Ogni qual volta La pescatrice Attacca Pesca una carta E poi possiamo Scartare una carta E la pescatrice Antima l'occhio Fino alla fine del turno La tappiamo Quindi E' come se avesse Una protezione Da Qualsiasi cosa Che non sia Una vratta O un effetto Di sacrificio E poi Giochiamo Questi due angeli qui Angelo della grazia 5 mana Tra in colore Doppio bianco Lampo volare Quando entra In campo di batteria Fino alla fine del turno Qualsiasi danno Che ridurrebbe I tuoi punti vita A meno di uno Li riduce invece a uno Molto utile Contro i mazzi aggressivi E poi la possiamo esiliare Dal cimitero Per 6 mana E guadagniamo E non non guadagniamo I nostri punti vita Diventano 10 L'angelo Flagellatore Costo uguale Volare Attacco improvviso Legame vitale Molto utile Contro i mazzi aggressivi Ci fa guadagnare vita E blocca bene parecchie cose Come ad esempio La bestia dei cimenti La uccidiamo O la bestia dei cimenti Attacco improvviso Non mi ricordo Povimenti attacco improvviso Quindi Non blocca bene La bestia dei cimenti Purtroppo La bestia dei cimenti È una carta malpensata Che ci possiamo fare Però comunque A protezione dei demoni Di draghi Che non sono Una cosa In standard Poi c'è Il cavalcante Delle burrasche Che anche questa È l'ultima possibilità Di farsi vedere È un 5-5 Con volare Per 5 Il difetto Che costa triple blu Quindi è un po' difficile Da castare Quando entra Pesca 3 carte Poi metti 2 carte Dalla tua mano In cima al tuo ghimorio In qualsiasi ordine Quando il cavalcante muore Rimescola nel ghimorio Il suo proprietario Poi perfettizza 2 E per ultimo Ma non per ultimo Il marinaio spettrale Che costa un mana blu Un 1-1 Lampo volare Per 4 mana Possiamo pescare una carta Ottimo Nelle fasi iniziali E nelle fasi più avanzate Ci può pescare carte Ma la base Tipica del mazzo bicolore Giochiamo un castello Un tempio Perché non vogliamo Avere troppe tap land Perché comunque Siamo un mazzo Mid range Un po' aggrino E buono Abbiamo detto tutto Vediamo come si comporta Questo mio Questo mazzo Dell'amico famicora Anche se non è proprio identico E E ci vediamo alla fine del video Per la valutazione finale A dopo Ready Spartacus Con l'avatar di Muglian Lingo Vediamo se sto mazzo Riesce a fare Riesce a comportarsi Bene Allora Giochiamo per primi Abbiamo un counter Abbiamo Questo Quindi io direi Di tenerla Soprano Gli auro felini Questa tappata Giochi in montagna Mono rosso Mono rosso Ok Auro felini Vediamo se c'ha Lo sparo Per ucciderlo Forfante Forfante Negazione Negazione Celsa Pronta Ok Non può essere bloccato Non può essere bloccato E attacchi con Anax Va bene Non paro Ok In alto negazione Eccelsa Possiamo flashare Questo E quando Entrano nel canale Fino alla fine Così Vedendo che Ne riduciamo Ok Adesso un attaccante Oppure possiamo Attaccare Facciamo bloccare Anax Con questo Attacchiamo Termina il turno Termina il turno Campione Fervente Ok Avrà Ember Cleave Ok Passa Ok E poi Lo flashiamo Adesso Ok E peschiamo Solo terre Quindi Siamo Morti Possiamo però Esiliare Questa E guadagnare Punti vita Nessun attaccante Termina il turno Non sta andando Molto bene Questo mazzo Eh Tritacarne Lo sta punendo Molto Ok Forfante Non ha difensore Ok Non può essere bloccato Va bene Ok Noi blocchiamo Qui E blocchiamo Qui Lock No Ok Ok Poi 3xx questo possiamo guadagnare 10 punti vita se è un'altra in Berkleeve siamo morti però poi non possiamo fare nient'altro questo però possiamo fare a velocità istantanea possiamo fare solo questo terminiamo il turno nessun attaccante termina il turno tutti i tuoi io lo countero l'anax no non posso farlo perché devo fare questo va bene blocchiamo questi possiamo fare piru piru anax e e facciamo bloccare oppure facciamo questo si quando attacca con anax oppure lo facciamo adesso terminiamo il turno non sto mazzo è immondizia lo vedo già già come si comporta contro il mono rosso non è è poi completamente immondizia imbalziamo anax lasciamo drear sticks ci serve un modo per guadagnare vita siamo morti siamo morti siamo morti sennò oh porco puttana potevamo farcela ma questi qui hanno non possiamo con questo abbiamo potuto farcela perché guadagnavamo punti vita ma quelli non possono essere bloccati quindi concediamo e una è persa ready conto aramilas vediamo abbiamo già ne abbiamo già persa una vediamo se riusciamo a risollevare le sorti del mazzo la vostra giocava il primo qui è carta un po' lente molighiamo non facciamo niente per il terzo turno e quindi equivale e si equivale a una sconfitta assicurata mulighiamo al 100% questa è un po' meglio doppio blu ci serve per il tree sticks quindi mettiamo una palude e una penula in fondo giochiamo scrutatore aquila tree tree sticks la tempesta improvvisa vediamo 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 aramilas che sta pensando probabilmente un mono rosso per fare ogni singola azione fontana e radioso quest'anno di poi avremmo dovuto tenere la pianura perchè abbiamo passato ovviamente isola ok isola mazzo counter probabile e siamo anche no andato giù liscio come l'olio rimbalzo vediamo cosa giocano sto nico sinic uro un account sovrano degli arreo felini andiamo di aquila impire e attacchiamo o forse era meglio scrutatore delle sfere così sono un po' più di danni oppure andiamo di tree sticks adventure probabilmente è adventure magno di sovrano degli ario felini e attacchiamo probabilmente c'è il rimbalzino ovviamente quella pianura che abbiamo lasciato in fondo al mazzo all'inizio cosa ci sta pesando tantissimo potevamo fare doppio castaggio dai se c'è il rimbalzo lancialo dai oh bravo ok quadrifoglio va bene ok giochiamo un altro scrutatore ok abbiamo perso un danno probabilmente ora puoi fare 50 mila rimbalzi ci sta bene e vediamo o puoi scappare uro non so puoi scappare uro vediamo se riusciamo a fare una vittoria contro un simic avventura avventura ara milas con la fontana radiosa quando il foglio rimbalzi due creature rimbalzi le due aquile ok ti vai a cercare due cose no vuoi pescare carte è un buon segno negazione eccessa ci piace quindi noi facciamo questo così pompa il team e possiamo attaccare e lasciamo aperto il counter attacchiamo fai il rimbalzino abbiamo la negazione accesa che lo aspetta ok facciamo blocchi lì e terminiamo il turno poi boom è una vittoria per il mazzo volanti ciò che banche che banca ha un conto dalla che banca ecco banca vediamo se riusciamo a fare un'altra vittoria con questo mazzo possiamo poter ottenerla perché comunque abbiamo un po' di roba in mano non abbiamo rimozioni ma ci sciocchiamo camminiamo il turno giochiamo marinaio marinaio verde bestia innamorata oh avvento bravo sei un tipo originale marinaio spettrale il mio turno ok attacchiamo scrutatore scrutatore delle sfere quindi andiamo di acquia in corporea o di un altro scrutatore i danni sono dissimili sparo ovviamente sei fenomenale e attacchiamo ok poi magari ho un'altra aquila uno scrutatore lo candiare estremo duro timor addventura spezza scudi attacchi non attacchi andiamo di un'altra aquila così siamo al di fuori del range degli spari se pescassimo un'altra terra potremmo fare il doppio scrutatore oppure un counter per proteggere le nostre creature no blocks c'è lo sparo in mano ma sono scemo che paro con l'aquila c'è il cinghialotto lì in mano ti sciocchi e se non hai sei morto boom due vittorie primo mazzo ro che porta a casa due vittorie vediamo se riesce ad essere considerato un mazzo buono ultima partita per il mazzo volanti azorio sconto limpa bias fino a un mazzo mediocre ma possiamo renderlo un mazzo buono questa è l'ultima possibilità per il sovrano questa è una mano che non possiamo tenere questa è una mano che dobbiamo accettare perché purtroppo non abbiamo di meglio teniamo dobbiamo tenerla per forza non possiamo molligare ancora e speriamo di pescare qualche piccolo drop un trioma sarà un altro mazzo avventura è molto bello lo standard e poi mi dite perché non giochi standard ok glielo rimbalziamo alla fine del turno oppure facciamo negazione eccelsa vediamo cosa gioca quadrifoglio disgregare estremo duro partenza ultra lenta non abbiamo un volante per counter quadrifoglio la vedo veramente dura la vedo veramente dura giochiamo la qui cosa si prende un rimbalzino però non può rimbalzare ancora a meno che non pesca un'altra terra facciamo così facciamo così e poi dobbiamo counterare speriamo che non peschi terra o comunque si escono no ce l'ha può fare doppio rimbalzo quindi fa doppio shock doppio shock la partita no noi attacchiamo termina il turno ok ma porco due che scassaminchia che sei bene bene ok un forfante se è andato fuori lui non ha più carte pescato come un dio c'è il cinghialotto gigante gigante e i fagioli giganti la partita è abbastanza finita nostri vetro hanno pescato tutti i quadrifogli del mondo quello come lo blocchiamo possiamo giocare questo più più l'aquila otteniamo il vetro aperto teniamo il vetro aperto tanto questo pesca come un dannato fuga nelle terre selvagge bello mazzo avventura poi mi dite ma perché non giocate standard è divertente è divertente c'è tanta varietà ho beccato solo mazzi al team di adventure bello che bello sei intelligente giochi un mazzo che non gioca a nessun altro bravo limpa l'angelo l'angelo e attacchiamo con questo vediamo se hai spari cose culo vediamo un po' ovviamente ce l'hai il rimbalzino perché sei un fenomeno va bene molto divertente va bene va bene va bene va bene va benissimo hai finito di giocare robe dai hai cautela tu no ok non ha cautela sto schifo quindi non possiamo neanche giocare questo questi qui non possono bloccare guadagniamo 6 punti vita ma ne prendiamo molti di più siamo morti oppure possiamo attaccare sono 8 danni ed è finita concediamo mazzo medio ci vediamo dopo per le valutazioni ma penso che ormai l'avete capito purtroppo e siamo tornati qui dopo il ro tritacarne e il mazzo è un mazzo mediocre il primo mazzo mediocre della serie di ro quindi vuol dire che ha fatto ha vinto due volte e ha perso due volte quindi è un mazzo che ha del potenziale diciamo probabilmente ci sono parecchi cambiamenti che io farei con i mazzo uccelli si possono prendere due strade o si va full agro e quindi si abbassa il costo dei volanti mettendo magari anche i volanti bianchi come il falco del guaritore o il pegasus leale e carte come come si chiama adunare le aria adunare adunata 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 adali stappo tutte le creature che controlli le creature che voleranno che controlli prendono più due più due fino alla fine del turno e questo funziona bene con una curva più bassa oppure si può andare più mid range e quindi bisogna valutare bene i posti a 4 e a 5 e capire quali sono le creature migliori Trix non mi ha non mi ha entusiasmato devo essere sincero anche l'angelo della grazia probabilmente l'angelo flagellatore secondo me può dire la sua soprattutto contro i mazzi progressivi il problema è che ci sono tanti timore adventure probabilmente ne avrò affrontati due o tre mi sembra in queste partite qui quindi rimbalzini su rimbalzini e quindi si è a punto a capo siamo mid range forse conviene farlo più aggro per aggredire questo tipo di mazzi è un peccato perché la mia versione con teferi mi piaceva parecchio e teferi dava quel tocco in più mid range che rendeva il mazzo più spicy ma pazienza è stato bannato quindi ce ne faremo una ragione ci vediamo al prossimo video se volete inviarmi i vostri mazzi iscrivetevi a discord c'è il link in descrizione dove c'è tanta bella gente come voi e inviate i vostri mazzi che io proverò qui in raw sarò spietato e mi raccomando like iscrizione al canale e lasciate comunque un commento qua sotto io vi auguro una buonanotte ci vediamo al prossimo video bye bye ciao 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 ciao